La transizione energetica dei territori per vincere la sfida climatica, questo è il tema del secondo forum su clima ed energia organizzato da Lega Ambiente Campania e trasmesso in diretta da 8 Channel 696. Tre sessioni con esperti, imprenditori e sindaci per parlare dei temi ambientali che toccano da vicino le comunità. Dalla differenziata all'energia pulita non è più tempo di declinare buone pratiche ma di mettere in campo iniziative concrete per salvare il pianeta e allo stesso tempo favorire la transizione energetica per investire in nuovi modelli di business che facciano bene non solo all'ambiente ma anche all'economia. Lavoreremo nei prossimi mesi per fare questo e per chiedere alla politica di sincronizzare i piani strategici per modernizzare quei settori importanti dalla mobilità all'agricoltura all'energia appunto e poi farnelli fotovoltaici su tutti i tetti pubblici, impianti eolici e impianti fotovoltaici con delle semplificazioni sicuramente come chiedevano gli imprenditori ma anche con percorsi partecipativi e trasparenza per i cittadini e le comunità. Come legambiente attraverso il rapporto comunità rinnovabili ormai da anni parliamo di comuni 100% rinnovabili, da quest'anno abbiamo aggiunto come dire la mappatura delle comunità energetiche e questi sono tutti territori che stanno sicuramente in avanti perché hanno capito non soltanto il ruolo strategico delle fonti rinnovabili rispetto ai temi climatici, rispetto alla riduzione dei costi in bolletta, rispetto anche al miglioramento della qualità della vita, dell'aria, quindi tutti i temi che ci interessano ma soprattutto si stanno mettendo insieme per creare comunità e creare valore aggiunto.